Introducendo questo Amarcord Varesino, ho parlato di tanto, ho parlato dei luinesi. Allora forse alla fine, guardando bene, il più importante tra tutti i luinesi che si sono illustrati nel campo dell'arte in senso lato è Piero Chiara. Piero Chiara, scrittore straordinario, narratore eccezionale e forse la figura più importante dal punto di vista culturale che il Varesotto abbia prodotto relativamente alla sua attività culturale nella seconda metà del Novecento. Ecco, Piero Chiara nasce a Luino nel 1913, il 23 marzo del 1913, quindi adesso, l'anno prossimo, il 23 marzo del 2013 cade il centenario della nascita. Io credo che ci saranno manifestazioni importanti, che le varie persone che sono interessate al luinese, alla città di Luino, abbiano in mente che c'è questa scadenza. Abbiano in mente, fra l'altro, che c'è anche un'altra scadenza importante, perché nello stesso 1913 era nato anche Vittorio Sereni, poeta importante, anche lui naturalmente, come ho detto, luinese, e quindi anche per lui cadrà il centenario della nascita. Forse sarà anche opportuno mettere insieme i due, non lo so. Insomma, sto sollecitando intanto quelli che dovrebbero lasci da fare perché appunto si viano da fare. Sollecito anche gli amici di Piero Chiara perché si viano da fare, anche se qui, tra virgolette, devo dire la verità, perché tra quelli che si definiscono gli amici di Piero Chiara non ce n'è uno che gli fosse amico, ma neanche uno. Quindi, adesso, se loro lo dicono dal punto di vista dell'apprezzamento della produzione, quindi come lettori amici di Piero Chiara, va bene. Ma se si parla delle persone che hanno una certa età, che pure fanno parte dell'associazione, non erano affatto amici di Piero Chiara, anzi qualcuno parlava male di Chiara e Chiara parlava male della persona stessa. Ho ben precisi i nomi in mente, in testa. Vabbè, comunque, questo è un inciso. Allora, dicevo, Piero Chiara. Piero Chiara è stato un grande narratore e è improvvisamente venuto alla ribalta nel 1961. Nel 1961, quando pubblicò Il piatto piange. Il piatto piange è la prima opera che ha un successo a livello nazionale e che parla di Luino, proprio della vita dei luinesi, di Luino, della Valcuvia, della parte luinese della provincia di Varese, rappresentandola come il luogo che effettivamente era all'epoca sua, quindi parla degli anni precedenti, naturalmente, di una zona nella quale si giocava carte, perché questa era, come si può dire, l'occupazione principale, e appunto si lavorava all'estero per poi tornare indietro nella propria patria. Ecco, quindi una vita spesa sui tavoli da gioco fu qualcosa di straordinario, perché nessuno a quei tempi pensava di parlare di queste cose, ebbe un successo travolgente, lo portò a livello nazionale, due anni dopo uscì La Spartizione, che fu un grande successo, tutti questi libri sono diventati poi dopo dei film importanti, e quindi Chiara diventò quell'importante scrittore che tutti quanti in qualche modo conoscono. Di Chiara bisognerà anche ricordare le origini siciliane. Io ho molte volte sostenuto che la letteratura italiana in realtà sia la letteratura siciliana, con poche eccezioni, pochissime, e di toscani per la maggior parte, i grandi scrittori italiani sono siciliani, anche quelli che non sappiamo che tali siano. Per esempio appunto Chiara, che è nato a Luino, ma è figlio di un siciliano, e che ricorda sempre suo padre, come colui che gli aveva insegnato a raccontare le storie. Ecco, quindi, è un grande personaggio, uomo molto anche con qualche lato oscuro evidentemente, di cui in qualche altra maniera ci possiamo anche occupare, ma uomo del quale dobbiamo ricordare la grandezza come narratore, e siamo qui per sollecitare che questo avvenga.